La nominal group technique è un'altra tecnica a conduzione nominale. È una via di mezzo fra un focus group, una delfi, un qualcos'altro e aiuta enormemente nel caso si debbono condurre dei gruppi in cui si voglia anche controllare la dinamica potenzialmente negativa di ruoli differenti, gerarchie differenti nel gruppo, ma specialmente se si vuole con una certa velocità fare attribuire dei valori cardinali a delle proprietà. Immaginate, per esempio, abbiamo degli indicatori di qualità della vita e vogliamo conoscere da dei gruppi locali qual è il loro giudizio sulla qualità della vita nel loro territorio e diamo loro questi 10, 20, 30 indicatori e diciamo adesso qui da voi il tale indicatore numero uno come lo giudicate con una scala da una 5, da una 7, da una 10, come vi pare e costoro devono decidere assieme che qualità della vita indicatore per indicatore ci sia quindi si prevede un minimo di discussione sì, per me questo è un buon indicatore qui da noi, c'è l'aria buona no, non è vero che c'è l'aria buona perché e così via allora, se abbiamo poco tempo dobbiamo utilizzare un gruppo vogliamo un risultato numerico allora la nominal group technique ha la versatilità di riuscire a produrre un risultato interessante in breve tempo con, attenzione, una conduzione davvero difficile se l'interpretate nella maniera adeguata grazie grazie